buongiorno oggi vi porto in un posto che a me piace moltissimo ci sono molto affezionata siamo in città e questo è il parco del sole e in questo momento sono in un anfiteatro guardate che bello poi ve lo faccio vedere anche dall'alto questa è la scalinata dell'anfiteatro questa è un'opera realizzata qualche anno fa da una scultrice new yorkese beverly pepper diciamo pittrice scultrice e diciamo progetta queste grandi opere tra queste c'è questo bellissimo anfiteatro i cui colori riprendono la basilica di collemaggio qua siamo diciamo al lato della basilica di collemaggio alla basilica vi ci ho portato con un video di un mese fa più o meno e oggi sono al parco del sole ve lo avevo promesso e oggi ve lo faccio vedere questo è un pezzetto di parco del sole poi ve lo farò vedere anche dall'alto questo è il laghetto del parco del sole quelle mura che vedete diciamo il retro della basilica di collemaggio il convento e e tutta la struttura che c'è e oggi sono qui ne sto approfittando perché ho fatto un'attività alla ludoteca che è questo edificio qui per conto di bibliobus ho fatto un'attività insieme a marina rivera con i bambini quindi abbiamo giocato con fili e libri e abbiamo raccontato storie con i fili poi a seguito del video vi metterò alcune foto perché veramente le bambine hanno fatto delle opere mirabili intanto sono risalita e questo è la parte alta del parco del sole e tra un po vi farò vedere anche l'anfiteatro dall'alto che è veramente bello e l'anfiteatro dall'alto sono pochi anni che ci sono comunque al parco del sole è diciamo la nostra spiaggia o perlomeno di quando ero ragazza io venivamo qua a prendere il sole l'anfiteatro non c'era tuttavia ci facevano i concerti l'estate quindi sempre quando ero giovane come si dice e quindi però questo ecco volevo mostrarvelo perché è veramente bello poi qui ci sono il campo da basket c'è il parco giochi oggi domenica c'è un po di movimento e ecco qua vi ho portato quella montagna che vedete lì è il velino mi ha portato un pezzetto di città questi sono i giochini dei bimbi insomma ancora gli alberi sono spogli però è bello ugualmente a me proprio piace questo posto poi sta diciamo dentro la città ma nello stesso tempo sta fuori come posso dire mi sembrerebbe uno simolo in realtà non lo è quindi ecco qua buongiorno eccomi a voi in versione casalinga al balcone di casa con i panni stesi rispetto alla prima parte del video questo è il giorno successivo ieri stavo al parco del sole e avevo in mente di fare proprio il video poi invece insomma si sono accavallate un po' di situazioni e non l'ho potuto più fare però siccome ci tenevo a terminarlo e siccome volevo farvi vedere anche il parco del sole ho deciso che la seconda parte insomma l'avrei fatta a casa con questa luce un po' strana perché sto all'ombra mi fanno i capelli blu non so per quale motivo ma insomma è il riverbero del sole vediamo se riesco vediamo i capelli blu è fantastico va bene dai adesso va un po' meglio e non sempre possiamo avere le cose perfette dunque eccomi qua allora benvenuti alle persone che per la prima volta intercettano il mio canale io sono Antonella Marinelli e questa è la mia rubrica in tre cedifici e di parole e bentornati a chi mi segue già da un po' e a chi insomma mi lascia sempre dei bei commenti e vi chiedo scusa dall'ultimo video che ho fatto diciamo che saranno un paio di settimane che non registro più e sapete com'è insomma non sempre si ha tempo e modo di farli o meglio insomma le giornate si susseguono a volte in ritmi incredibili e quindi il tempo per un video magari non c'è però eccomi qua spero mi abbiate aspettato e di cosa voglio parlarvi oggi voglio parlarvi di una nuova iniziativa che sto diciamo studiando perché mi sono resa conto già da un po' di tempo insomma ho avuto anche delle richieste insomma di conoscenti, di amiche e quindi ho detto perché no perché non lanciarlo nell'etere e vediamo che cosa succede richieste di cosa richieste di rinnovo abiti per esempio quanti di noi io compresa abbiamo gli armadi pieni di cose molte delle quali non ci mettiamo più un po' perché non sono più di nostro gusto un po' perché magari non ci vanno un po' perché insomma non vogliamo non li vogliamo mettere per una serie di motivi ma non li vogliamo neanche buttare o comunque darli perché ci siamo affezionati perché la stoffa ci piace perché li abbiamo acquistati in un periodo insomma che ci ricorda belle cose quindi perché tenerli lì in armadio a prendere polvere o a prendere spazio rinnoviamoli e quindi mi è venuto in mente diciamo lanciare un nuovo slogan parafrasando un po' una nota pubblicità non lo metti più? rinnovalo rinnovalo insieme a me se avete abiti appunto che volete rinnovare contattatemi e magari studiamo una soluzione insieme se poi voi volete cimentarvi nella cucitura vi do delle dritte diciamo per farlo altrimenti lo faccio io oppure lo facciamo insieme questo vale anche per i miei adorati figli per esempio se avete maglioni ormai da anni montati lì sui ferri magari avete già tutti i pezzi dove volete sorassemblarli o magari siete arrivati al collo e non riuscite a capire come fare le diminuzioni non avete idea di come svilupparlo eccetera anche in questo caso contattatemi e possiamo studiare insieme una soluzione perché no vorrebbe essere una buona idea insomma anche per toglierci tutti i semilavorati che abbiamo per casa e potrebbe insomma è anche divertente perché poi alla fine insomma mettiamo in campo tutta la nostra creatività e in due si sa le idee vengono sempre meglio quindi perché non provarci quindi che dirvi non lo metti più rinnovalo insomma iniziate a seguirmi o se lo fate già continuate a seguirmi nei miei canali social quindi su Instagram e anche su Facebook vi metterò i link nell'info box a giorni farò anche insomma metterò online anche delle locandine e farò anche un articolo sul vlog così spiegherò meglio come iniziare a collaborare ecco quindi questo video ecco volevo farlo per questo motivo perché è un'idea che mi frulla già da un po' e comunque è sempre carino no? rinnovare un capo che non deve essere anche nostro magari vorrebbe anche essere un vecchio cappotto del nonno che abbiamo lì conservato con una stoffa bellissima e perché non scusirlo e rifarci un nuovo modello sopra vorrebbe essere veramente una cosa carina ed è anche una come dire una nuova storia da raccontare io la vedo anche così rinnovare un capo vuol dire dargli un'altra vita e quindi raccontarci un'altra storia e perché tenerlo lì nell'armadio per affetto ma per affetto possiamo rinnovarlo o comunque rifarci anche completamente un'altra cosa e rindossarlo io penso che è una bella soddisfazione no? poi rindossare un capo completamente stravolto però della stoffa che magari ci è piaciuta di un abito che abbiamo comprato in una vacanza particolare o in un momento particolare della nostra vita o che ci è stato donato e quindi sarà insomma anche affascinante ripercorrerlo un po' mentre si scuse e ricuscirlo da capo quindi non lo indossi più? rinnovalo insieme a me bene questo è un video veramente breve breve grazie per avermi seguito fin qui ci vediamo qui insomma nei social o qui su youtube prossimamente sto preparando dei bei contenuti a mio parere ci sto studiando tanto quindi diciamo inizio primavera quest'inizio primavera fino all'estate vi accompagnerò con altre picche continuate a seguirmi buon proseguimento di giornata e buon filo a tutte